Isola dei famosi Isola dei famosi, nel cast ufficiale Francesca Cipriani e Rosa Perrotta Isola dei famosi 2018 chi sono i nuovi naufraghi? Nel cast anche Francesca Cipriani e Rosa Perrotta di uomini e donne. Quasi tutto pronto per il ritorno dellIsola dei famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi tornerà su Canale 5 lunedì 22 gennaio. Il settimanale chi, nellultimo numero in edicola, ha svelato altri due nomi del cast ufficiale, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. La prima ha presto il posto di Elettra Lamborghini, lereditiera che ha dato forfait ad una passo dallinizio del programma. Non solo, lex concorrente del Grande Fratello è riuscita finalmente ad essere presa in considerazione dopo ben otto provini. Da tempo infatti Francesca, che di recente è stata protagonista a Colorado, sognava di mettere piede in Honduras. . Insieme a lei ci sarà anche Rosa Perrotta che, dopo il provino andato male al Grande Fratello Vip, ci riprova con la trasmissione firmata Magnolia. . Chi sono gli altri nomi ufficiali del cast dell'Isola?. . Oltre a Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, la produzione dell'Isola dei famosi ha ufficializzato nei giorni scorsi altri tre nomi che fanno parte del cast. . Si tratta della cantante Bianca Azei, della showgirl Alessia Mancini e dell'attrice Nadia Rinaldi. . Sono ancora da confermare, invece, i seguenti personaggi, Francesco Monte, Brigitte Nielsen, Chiara Nasti, Sabrina Ghio, Craig Warwick, Marina La Rosa, Paola Di Benedetto, Stefano Bettarini, Giucas Casella. . Il nuovo inviato del reality show è Stefano Dei Martino mentre i nuovi opinionisti sono Daniele Bossari e Mara Vignetti. .